Da lunedì 6 dicembre, gli alunni dell'Asolito, sfrattati a loro volta dall'Antonietta Aldisio a causa di infiltrazioni causate dalla pioggia, potranno rientrare in classe nell'istituto di Via Feace. Niente più dad dunque. Il Comune ha dato il via libera al ritorno in classe dopo aver effettuato alcuni lavori di ripristino. Problema risolto dunque dopo le mille proteste dai genitori? Niente affatto. E il perché lo spiega Riccardo Lana, portavoce del comitato nato dopo il crollo del tetto dell'Asolito. Qualcosa non convince perché noi abbiamo sempre chiesto 6 aule in sicurezza. Al di là di quello che può essere scritto, quello che stabilisce il dirigente o il Comune, di sicuro queste aule non sono in sicurezza. E per due o di ragioni. I vigili del fuoco avevano prescritto di fare lavori di ripristino e di consolidamento. Ad oggi scrive Massimo Colodoro per il Comune di Gela, nel suo certificazione, abbiamo eseguito lavori di ripristino. Nessuna voce indica di aver fatto i lavori di consolidamento. Quindi ad oggi le 6 aule non rispettano ciò che avevano prescritto i vigili del fuoco. Le 6 aule non sono in sicurezza. Questo è certificato, ma non perché lo dico io. Lo dicono il Comune di Gela e rispetto i vigili del fuoco. Altro aspetto importantissimo e grave. Nulla si dice in ordine allo status dei corridoi di collegamento fra l'entrata e le aule, che è la parte più critica da loro evidenziata nel sopralluogo. La protesta dunque va avanti, ma sottolinea comunque l'ANA, i bambini lunedì rientreranno regolarmente in classe per rispetto dell'obbligo scolastico. Ma i genitori continueranno a pretendere risposte in merito alla sicurezza degli ambienti, che al momento, secondo il Comitato, non sarebbe affatto garantita. Non ci fermeremo assolutamente. I bambini entreranno a scuola perché così è prescritto, così hanno stabilito. Ma ripeto, ci vuole anche un minimo di coscienza morale. Coscienza morale. Perché qui stiamo giocando con l'incomunità di tanti bambini. 120 famiglie debbono essere sotto scacco rispetto ad una firma, ad una certificazione labile, opinabile e quant'altro di un comune che ha fatto soltanto la voglia di ripristino, cioè togli te con la rotta, metti te con la nuova e non esegue la voglia di consolidamento. I genitori lanciano un ennesimo appello alle istituzioni e sono già pronti da lunedì a chiedere una nuova perizia statica ai vigili del fuoco. Tutto ciò è scandaloso. Noi chiederemo verifiche da vasti vigili del fuoco, accertamenti precisi dagli organi preposti. E ancora una volta invito tutti gli organi preposti a farsi carico delle responsabilità. Tutti gli organi preposti. Parliamo di 120 bambini. Non si può scherzare.